il 14 dicembre scorso mi ha telefonato una mamma grazie perché nella lettera di natale hai scritto dai un bacio a marcello per me io voglio bene a marcello e a chi ama marcello io voglio bene di più marcello ha 36 anni ma non sa di averli la sua mente chissà dov'è si esprime con dei suoni particolari l'ho conosciuto nel 1996 a lourdes insieme ai suoi genitori che festeggiavano in quel pellegrinaggio il cinquantesimo del loro matrimonio con quale tenerezza lo chiamavano gli parlavano la carezzavano la frase di quella mamma a chi vuol bene a marcello io voglio bene di più mi è arrivata come la voce di dio niente mi avrebbe resa più felice che il sentirmi dire quelle parole a quanti genitori o figli o amici che amano e custodiscono creature così fragili dio dirà a te voglio bene di più perché ti sei preso cura di me anche se io non ti potevo esprimere il mio amore ma capivo il tuo per questo ti voglio più bene ma capivo il tuo per questo ti voglio bene Grazie a tutti.